dimmi ciccio che problema hai dottore il mio sorriso non mi piace per niente effettivamente non era un bel vedere anzi direi che fai schifo la soluzione c'è è semplice innanzitutto non ridere mai devi stare sempre incazzato nervoso con i musi stesi devi assumere un atteggiamento negativo cubo e inspiegabilmente serio i tuoi denti non si vedranno più fidati ciao amici lo so che questi video vi piacciono ne pubblicherò tantissimi altri chi ti ha mandato dimmi chi ti ha mandato dimmi per chi vieni cosa vuol dire vuoi ritornare a rifare la stessa manfrina